Grazie a tutti. Penso Palmieri che è qui a fianco a me e che tiene appunto da questa mattina un weekend di seminari perché il seminario se non vado errato durerà oggi e domani appunto sulla grafologia criminale. Chiederemo appunto al professor Palmieri di cosa si occupa la grafologia criminale e soprattutto il contesto nel quale viene applicata la grafologia criminale. Buongiorno professor Palmieri. Buongiorno. La grafologia criminale è una branca della grafologia che si occupa di applicare le leggi della decifrazione del comportamento umano attraverso l'atto grafico in ambito criminologico. Allora in generale la grafologia è un grande strumento per poter comprendere la personalità delle persone che ci circondano, quelli che ci sono a fianco, la personalità della propria moglie, dei propri figli, dei propri genitori e capire diciamo in relazione a questo come si sono comportati con noi. Io ho una cosa che dicevo oggi al corso, è stato bellissimo dopo molti anni in cui io mi sono diplomato alla scuola diciamo di quadriennali, grafologia, ho preso vari master eccetera, riprendere le lettere che mi scrivevano i miei amici, i parenti e rianalizzarle, capire perché alcuni comportamenti sono stati dettati da alcuni atteggiamenti. E in questo modo qui io ho compreso quelle che erano le mie relazioni e perché con alcune persone andavo d'accordo o meno. Allora la grafologia è un grande strumento, è come parlare una lingua straniera in più, se io posso parlare una lingua straniera in più mi posso rapportare a varie nazionalità. Se io so leggere attraverso la scrittura quella che è la personalità di chi mi circonda ho una comprensione maggiore, posso fare un esempio? Le relazioni diciamo fra marito e moglie normalmente sono qualcosa diciamo molto bello ma comunque anche spesso molto complicato. Se io nel momento in cui vedo per esempio che mia moglie è una persona estremamente dinamica, una persona che si annoia magari dei comportamenti che sono sempre statici e monotoni, e io che cosa cercherò di fare? Cercherò di modellare me stesso in modo magari da cercare di essere compatibile con lei e quindi magari diciamo le sottoporrò magari la scelta di viaggi da fare oppure magari di imprese anche intellettuali diciamo di studi nuovi diciamo da percorrere assieme e in questo modo diciamo il nostro rapporto sarà sempre più attivato da elementi nuovi. Volevo fare una domanda però visto che parlava di grafologia quindi anche la scrittura dei bambini? Sì allora in verità diciamo la scrittura dell'età evolutiva è una cosa di cui io non mi occupo, io in generale vado più su referti personalità, compatibilità di coppia eccetera perché è praticamente delicata. Tuttavia diciamo assolutamente sì io ho studiato molto diciamo la scrittura dell'età evolutiva e anche l'analisi del disegno perché il bambino spesso rappresenta con il disegno. Allora in questo caso qui per esempio nel bambino si possono riconoscere nelle disgrafie, nelle difficoltà che il bambino per esempio manifesta mentre sta scrivendo e quindi prevenire e quindi capire che ci possono essere dei disagi e quindi allora andando, quindi se questa qui è la grafologia che mi dà diciamo tutta una serie di possibilità di capire con chi io mi sto relazionando e quindi comportarmi di conseguenza, la grafologia criminale in certo qual modo guarda le scritture di quelli che sono state persone che in certo con un passato comunque quantomeno discutibile, in questo caso vedremo per esempio sia nella santa inquisizione magari diciamo per la caccia alle streghe perché uno in generale quando parla di caccia alle streghe la vede come un periodo della chiesa in cui l'uomo ha dato il peggio di sé. Il problema è che se uno va a studiare un pochino in dettaglio deve capire perché c'è stata una caccia alle streghe perché quello che c'era prima era capricciante ai massimi livelli. Io ho studiato molto, io direi di per sé, quelle che magari la stregoneria per esempio, diciamo quelle che erano magari gli atti aberranti, a un certo punto sono stato talmente tanto disgustato che questa cosa qui per esempio nel corso l'ho tagliata perché era veramente raccapricciante, era veramente raccapricciante e quindi per esempio atteggiamenti della santa inquisizione non sono giustificabili però comunque si capiscono perché quello che c'era prima era qualcosa di veramente terribile. Per fare un esempio, la strega di Biancaneve è un personaggio veramente esistito è un personaggio veramente esistito, diciamo una regina merovingia la quale un giorno tutto ad un tratto ebbe i capelli bianchi perché presi uno spavento dall'evocazione del demonio eccetera eccetera. Poi dopo la storia voglio dire è stata in un certo qual modo cambiata da Perru eccetera addirittura poi dopo nelle favole. Partendo da quello, in verità poi dopo si va a guardare magari la grafia delle lettere autografe di Jack lo Squartatore a poi i criminali nazisti. Sarà tutto quanto il pomeriggio di domani diciamo dedicato ai criminali nazisti e uno capisce che effettivamente alcuni segni della scrittura determinavano proprio quella che era la loro personalità. Tuttavia, attenzione, ci possono essere segni di brutalità di segni di brutalità nascosta, ci possono essere segni di povertà d'animo la scrittura irta, stecchita, rabbrividita, quindi segni di paura e segni di ansia ma non è detto, in scritture criminali, ma non è detto che chi ha questi segni di ansia sia un criminale. Quindi bisogna fare molta attenzione perché se io magari vedo questi segni di brutalità devo andare a guardare se magari ci sono dei freni che per esempio me la tengono nascosta perché altrimenti se noi guardiamo le grafie potremmo già restare in maniera preventiva. Professor, io ovviamente non voglio togliere tempo anche perché so che il seminario è appunto nel mezzo proprio di quello che sarà appunto quello che stava raccontando lei però vorrei sapere innanzitutto dove trovare informazioni proprio in merito ai suoi seminari perché immagino che in giro per l'Italia lei farà altri seminari che allora qualcuno volesse appunto richiedere la sua competenza e soprattutto se questi seminari sono itineranti anche a livello universitario, scolastico per dirlo appunto ai nostri amici web ascoltatori di modo che possono, non so, acquistare dei libri, leggere e informarsi un po' di più visto che lei parlava appunto dell'inquisizione. Ma guardi, allora, la bibliografia è immensa, è sconfinata. Io di per sé sono un grafologo di origine marchesaniana che significa che prendo spunto dal Marchesan, però tuttavia ho studiato anche il Moretti quindi diciamo se uno va in libreria e prende un testo del Marchesan o del Moretti comunque troverà un sacco di cose. Devo dire che uno dei vantaggi che io ho è quello di leggere molto per esempio dall'inglese e dal francese e quindi in questo caso è come se uno triplicasse, voglio dire, la bibliografia e quindi diciamo ci sono i approcci americani, per esempio la grafologia, che sono strabilianti sono le cose che non avremmo mai pensato e invece c'è l'approccio tradizionale, la grafologia francese, che faremo vedere oggi che è ancora più interessante. Giusto per fare un esempio, se io non ho scritto, il grafologo italiano l'analizza così il grafologo francese l'analizza così, la guarda allontano per vedere magari l'insieme. Quindi i testi ce ne sono tanti e anche il mio libro che si chiama... Presentiamo! Il libro della grafia è più facile di quello che pensi, adesso in preparazione invece il secondo che è basato su una didattica estremamente interattiva e va proprio un libricino, rispetto al panorama internazionale, voglio dire, dei libri, voglio dire... L'altra cosa per i seminari, io adesso sabato per esempio farò un seminario di grafologia che è molto simile a questo, a Resana in provincia di Treviso per l'associazione realtà allo specchio ne ho fatto un altro, diciamo poco tempo fa, a dicembre un altro seminario il 21 gennaio sono di nuovo a Treviso e in generale tramite la mia pagina Facebook Enzo Palmieri le persone mi possono contattare, chiedere l'amicizia e io sono assolutamente a disposizione. Benissimo, io ringrazio il professor Vincenzo Palmieri per il tempo che ci ha dedicato ringrazio l'associazione Prometes, quindi Graziella Mazze e Angelina Pettinato che sono qui oggi proprio presenti al corso per averci dato la possibilità di realizzare queste interviste e di seguire questi 22 seminari che ci sono in giro per la Calabria e quindi seguiteci sul sito dell'associazione Prometes, LibriTV ma ovviamente il professor Palmieri Vincenzo Palmieri. Grazie ancora professore, buon seminario. Grazie, sono molto contento soprattutto in terra Calabra. Oggi abbiamo aperto il seminario con l'origine della parola Calabria dove sorge il bene. Dove sorge il bene. Non c'è una regione che abbia un etimo così ricco, così bello. E positivo. Grazie ancora LibriTV Catanzaro. Grazie. 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 Grazie.